124 giovani fra i 18 e i 29 anni sono stati individuati per svolgere tirocini presso il Comune di Napoli. È il progetto Garanzia Giovani, promosso dal Comune in collaborazione con l'Agenzia regionale Arlas e con Italia Lavoro, che consentirà ai ragazzi di affrontare un'esperienza formativa in un contesto sfidante ed articolato sotto la guida di lavoratori esperti. Saranno impegnate abilità e competenze molto varie dall'ingegnere al contabile, dal vetraio all'esperto in comunicazione. Sono 124 i percorsi formativi attivati all'interno del Comune di Napoli che daranno ad altrettanti ragazzi la possibilità di poter formarsi e crescere nell'amministrazione. Facendo un'esperienza sì, quella davvero unica, perché lavorare per la città di Napoli vuol dire che tu ti puoi fermare ma la città non si ferma e quindi devi gestire spesso delle emergenze ma puoi incontrare all'interno degli uffici e delle direzioni altissime professionalità, capitale umano di una generosità e di una passione straordinaria e alla fine dei sei mesi noi daremo vita poi a dei job day, dei B2B dove i ragazzi potranno incontrare delle aziende. Se non credi in te la città dove sei nato, chi dovrebbe farlo? Finanziato con fondi europei, il progetto Garanzia Giovani assicura ai ragazzi un percorso formativo sui luoghi di lavoro che avrà la durata di sei mesi e sarà ricompensato con un'indennità complessiva di 3.000 euro. 124 come prima qualificata avanguardia di un maggior numero di ragazzi e ragazzi che arriveranno nei prossimi mesi in comune nelle nostre partecipate perché di Garanzia Giovani vogliamo fare un'occasione importante per i giovani perché questo è il nostro futuro e di garanzia perché il lavoro e l'identità e la vita e la prospettiva di ognuno di noi. I giovani ad oggi coinvolti sono 124 ma a breve aumenteranno in quanto si è inteso redigere ulteriori progetti formativi sui beni culturali della città e sugli informagiovani. Nell'incontro di questa mattina a Palazzo San Giacomo i ragazzi hanno ricevuto il benvenuto del sindaco De Magistris e hanno incontrato i referenti delle strutture dove sin dal mese di dicembre cominceranno le loro attività di formazione sui luoghi di lavoro.